Per infiltrarsi nell'andrangheta aveva sposato la figlia del boss. Ma ora... L'operazione è finita. Devi rientrare. L'operazione finisce quando riporta a casa Agatha. Michael! Non ti mollo, Agatha! La missione dell'agente solo è finita. Donato, me la riporto io. Io mi fidete. È per questo che sono risposto a tutto. Oltre la legge. Arresti l'agente solo o io resterò entrambi, ha capito? Oltre ogni rischio. Era morto! Solo seconda stagione. Prima assoluta da venerdì 5 ottobre su Canale 5.